Un po' buon e punto rotto, primo live, non so... Primo live assoluto, no, infatti... Chissà se ce ne saranno... Ah, un po' buon è arrivato a Londra, eh! Oh, ma ne spiega! Un po' buon è arrivato a Londra! E che ci torna a Londra! Security, l'individuo è ancora qua, perché c'era... Vado? Vai! C'è un po' buon è arrivato a Londra! 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 C'è un po' buon è arrivato... E' arrivato a Londra! C'è un po' buon è arrivato... E' arrivato a Londra! C'è un po' buon è arrivato... E' arrivato a Londra! C'è un po' buon è arrivato a Londra! C'è un po' buon è arrivato a Londra! C'è un po' buon è arrivato... E' arrivato a Londra! C'è un po' buon è arrivato a Londra! C'è un po' buon è arrivato... E' arrivato a Londra! C'è un po' buon è arrivato a Londra... E' arrivato a Londra! C'è un po' buon è arrivato a Londra! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti